Comercianti di Via L'Italia è rivolta contro la decisione della manager dell'azienda sanitaria Morgante di trasferire nei locali del Mafulci in Via Pennini gli uffici amministrativi dell'ASL e non nei locali dell'ex ospedale Moscati, così come ipotizzato in un primo momento dalla direttrice generale. I commercianti della zona hanno dato vita a un presidio davanti all'ex ospedale e anche a una serata simbolica per ricamare l'attenzione delle istituzioni. Ieri intanto nel corso del Consiglio Comunale il Sindaco Festa ha promesso di rivitalizzare l'area di Via L'Italia investendo su un polo di formazione che troverebbe sede nei locali dell'ex ospedale Moscati e presso un'ala della caserma Berardi in attesa della possibile svolta annunciata dal primo cittadino i commercianti fanno sentire la loro voce. Prima era una zona dove si lavorava in tutte le persone, lavoravano e stavano bene adesso è diventato neanche una periferia, lo scarto della periferia. In questi dieci anni qua adesso è tutto abbandonato, persone sono morte, persone che hanno abbandonato e i ragazzi che facevano i parcheggiatori sono andati a lavorare fuori di quello che so io e tante altre persone che se ne sono andati oppure gli altri ragazzi che sono rimasti giovani che stanno lavorando e lavorano mattina e sera come tutti i giovani di qua lavorano senza guadagno, sempre con la speranza che qua privano qualche cosa. Ma adesso la dottoressa Morgante ci sta deludendo perché sta finendo di far finire questa specie di quartiere che è rimasto, non c'è una panchina, immondizia dappertutto. Le serrande stanno chiudendo, le tasse ripaghiamo e non so fino a quando riusciremo a pagarle. Se la dottoressa Morgante ci vuole prendere per i fondelli che manda qui la scuola infermeristica a noi non ci prende per i fondelli perché questa struttura qua diventerà una cosa fatecente. Io mi voglio augurare che ancora una volta questa città non rimanga incompiuta nel senso che si apre qualcosa, si prospetta qualcosa e poi alla fine non si porta mai a termine. Ripeto un po' le parole che ha detto la signora, ma è tante navide che stiamo dicendo sempre le stesse cose. Le maestranze comunali si devono rendere conto che Viale Italia fa parte del centro di Avellino. Il centro di Avellino comincia dalla prefettura e finisce la chiesa di San Giro. Queste che hanno rovinato, questa azienda qua che ha rovinato tutta la città, perché se non spostavano questa azienda si lavorava tutta la città, si faceva più gente. Io non so, io ho fatto commerciante per 70 anni, ho lavorato e si lavorava bene con l'ospedale perché venivano tutta la provincia di Avellino. In realtà la questione è legata strettamente al certificato di agibilità di questo sito che l'azienda ospedaliera Moscati ci sta dicendo da due anni, tra un mese è pronto, è chiaro che la Morgante non può trasferirsi qui se non ha queste carte messe in regola. E inoltre vorrei capire, i nostri consiglieri regionali che sono avellinesi, Giannace, Petracca, non si è sentita una parola da parte loro, non si è sentita una parola da parte del sindaco che adesso viene fuori con i dei mirabolanti da Bocconi del Sud, ci dovrebbe dire con quali fondi vuole fare questo tipo di riutilizzo.